bene ragazzi siamo qui allo stadio live reaction di Juve Nantes speriamo bene dobbiamo andare avanti in Europa League oggi bisogna portare a casa tanti gol anche in virtù del ritorno detto ciò formazione con il tridente speriamo bene che Dio ce la mandi buona buon divertimento tanti like ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale fino alla fine dice che sono pazzesca e sei il fassolo della tedesca vuole lo spicchio della mia pesca non ho frutta fresca come lo chiesce sono pazzesca e non ti vengono sui tasca iscrivetevi al canale zi giuventus allegri con il numero uno poi c'è che c'è scendì numero due mattino regiglio numero tre lei sono breve numero sei da Silvia da Milo numero sette Federico Chiesa numero nove Duzana Raudi numero todici Alex Sandro numero venti due anche Di Maria 35 Ariane Rappio numero 32 Leandro Maredes numero 44 Nico su Pagioni Juventus sempre sana Grazie a tutti 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 Secondo tempo iniziato Grazie a tutti 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 Grazie a tutti